Giovedì 14 dicembre, ancora una buona giornata dalla redazione di TRMH24 e ben ritrovati con la nostra edicola, lo spazio dedicato alla lettura dei quotidiani. Allora come di consueto iniziamo dalle notizie di taglio nazionale, siamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Migranti stop dall'Albania, patto di stabilità, la Premier non esclude il veto sul mess scontro con Conte, l'Alta Corte sospende l'intesa con l'Italia, la Presidente dichiara un atto tecnico, sorpresi Rama e Meloni, questo il titolo di apertura del Corriere della Sera. In taglio alto invece i temi legati alla COP28, accordo storico per il clima, addio ai combustibili fossili entro il 2050. Sono 315 mila i caduti di Putin, le perdite russe in Ucraina e poi dal fronte dello scontro a Gaza, Bibi non si ferma avanti con i raid a Gaza, morti nove soldati. In taglio alto l'articolo di fondo, regole e cinismo sui conti, l'accordo europeo. Continuiamo a scorrere la prima pagina del Corriere della Sera. La fotonotizia uccise il padre violento condannato a sei anni. Appello il delitto in difesa della madre, cancellata l'assoluzione in secondo grado. Alex Cottoia, 22 anni, con la mamma Maria, 55, fotografati ieri nell'aula della Corte d'Assise d'Appello di Torino. E poi ancora deficit dall'Unione Europea, più concessioni con le riforme e gli interessi sul debito. In taglio basso il caffè di Massimo Gramellini, quest'oggi invece intitolato Davigo e la sua maschera. Ci spostiamo sulla prima pagina di Repubblica. Unione Europea, Meloni minaccia il veto. La Premier non esclude di bloccare l'intesa sul patto di stabilità. L'Italia rischia una manovra correttiva in primavera. È scontro con Conte sulla ratifica del MES nel 2021, ma il fax esibito in aula smentisce la versione di Palazzo Chigi. Giudici di Tirana stop al protocollo firmato con Roma sui migranti, la sintesi delle notizie di natura politica. Anche in questo caso, in taglio alto, ci sono le tematiche affrontate durante la COP28 che si è chiusa a Dubai. Clima, l'accordo c'è, addio al petrolio, ma solo nel 2050. Il commento firmato da Riccardo Luna è iniziato il conto alla rovescia. E poi ancora sulla prima pagina della Repubblica, tornando ai temi politici, il sentiero stretto della sovranista, il punto firmato da Stefano Folli, a Bruxelles con l'arma spuntata e l'analisi di Giorgio Barba Navaretti. Le storie. Suicida nella Senna accusò Depardieu di molestie sul set. Processo a Grillo, domande sessiste alla vittima. Cultura, i mari e la nuova geopolitica dell'acqua, l'articolo firmato da Lucio Caracciolo. Continuiamo con le pagine della Repubblica, ci spostiamo però sull'inserto locale, quello della Repubblica edizione di Bari. Dove costruire, dove no, i dossier sul piano casa, questo è il titolo di apertura dalle zone rurali a quelle destinate ai servizi. Tutti i dettagli e le domande sul nuovo strumento urbanistico che dovrebbe porre fine alle misure straordinarie. Ancora dalla prima pagina della Repubblica Bari, scorie nucleari, c'è la murgia, ma noi qui non le vogliamo, è la dichiarazione riportata. Di spalla ci sono più bronchioliti e l'influenza tra i bambini non è un allarme. Ho scattato quella foto con tristezza e sconcerto e i servizi per studenti, Roberto Bellotti, direttore di Fisica. E poi ancora in taglio basso il Convenio Nazionale, l'assise di Scuola Democratica, così Gramsci indico la strada. Diamo uno sguardo anche alle notizie riportate. All'interno viene analizzato il tema legato al deposito scorie, no ai depositi nucleari, qui regione e sindaci in campo. E poi ancora impennata del fotovoltaico la Puglia dopo la Lombardia. Continuiamo a scorrere le pagine della Repubblica Bari, lavori pubblici, Galasso lascia l'assessorato, rientra nella sua foggia con la stessa carica. Ancora a pagina 4, la forgia nei bimbi, molte bronchioliti, ce l'aspettavamo ma niente panico, l'intervista al direttore di neonatologia. Violenze, boom di denunce, per una su tre c'è la misura. Ci spostiamo ora sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno. I ritardi nei lavori frenano il PNRR, tagliati 897 milioni. La situazione in Puglia, ok a 600 interventi. Il piano, i dati dell'ufficio parlamentare di bilancio. Spunta il risico dei sindaci. Bari al PD, taranto al Movimento 5 Stelle, il retroscena, giunta Melucci in crisi, nuovi scenari. E poi ancora pattinaggio sul ghiaccio. Ecco la pista per Natale. Debacle politica sulla povertà, l'emergenza ignorata. Anche in questo caso diamo uno sguardo alle pagine interne. PNRR, via libera solo a 600 progetti. La Puglia sconta i ritardi nelle gare. I dati sono stati diffusi da Lilia Cavallari, presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, sotto accusa all'immobilismo dei comuni. Ecco perché il governo ha tagliato 1.500 interventi. I conti 2024 in giunta. Allarme sui tagli statali. Ora abballano 43 milioni. La regione mette in riparo welfare e sanità. Viene ripreso il tema delle scorie nucleari. Pronto l'elenco per il deposito sulle scorie. C'è anche la murgia. I sindaci in piazza scatta la mobilitazione. Intanto vertice alla regione. Ancora i temi politici. Maggioranza in pezzi a Taranto. Il PD in cambio vuole l'appoggio del Movimento 5 Stelle a Bari. Il centro-sinistra all'attacco del sindaco. Ci spostiamo ora sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno. Partiamo dall'edizione nazionale. Poi nel dettaglio leggeremo i titoli dalle varie province. Edilizia sostenibile. Ecco il modello Puglia. La nuova legge sulle ristrutturazioni schiude tante opportunità. L'analisi. Così la finanza può salvare il calcio e anche il Bari. Il va ad aprile l'appello di ambiente svenduto. Palazzina LAF e la città che non c'è. La strage dei treni. Imprevedibile trani le motivazioni della sentenza sullo scontro del 2016. Errore dei ferrovieri. Così è riportato ancora la politica. Taranto Melucci perde pezzi. Resa dei conti nel centro-sinistra. Capitale italiana della cultura. 2026 vanno in finale Lucera e Maratea. La CNN è il mito Nicolaiano. Bari è la città di Babbo Natale. Ci spostiamo ora sulle pagine della Gazzetta di Bari. Ex Bonomo. Altro tassello via libera del Consiglio Comunale per gli uffici del Demanio. In taglio alto. Schiaffi in classe. Timpano lesionato. Bufera al fermi. E ancora violenza tra i banchi. Galasso se ne va. Rebus delega ai lavori pubblici. Grattacapo per De Caro. Ci spostiamo ora sulla prima pagina della Gazzetta di Basilicata. Dunque le notizie dalla provincia di Potenza e di Matera. 300 cantieri lucani sono a rischio crisi. Superbonus 110% invocata una proroga per evitare il crack. Elezioni regionali nel centro-sinistra. Fuoco incrociato sulle scelte del Partito Democratico. Azione PSI sinistra italiana e Basilicata possibile contro l'ipotesi Chiorazzo. Deposito di scorie nucleari. La Basilicata ribadisce il suo no. È l'articolo firmato da Piero Marrese, presidente Unione Province di Basilicata. E poi ancora dimensionamento scolastico. Le province battano un colpo. Maratea tra le finaliste per la Capitale della Cultura. Continuiamo con le pagine della Gazzetta del Mezzogiorno. Ci spostiamo però sull'edizione della BAT. Trani buco nel tetto dell'ex casa di riposo. La struttura è chiusa da nove anni, cade a pezzi ma nessuno interviene. Poi ancora in taglio centrale ingegneri BAT dalla regione risposta all'emergenza. A sabato a Canosa la consegna dei premi ai pugliesi illustri. IMS nella BAT. Ecco la nuova area operativa. Siamo ora sulla prima pagina della Gazzetta di Capitanata. Porte aperte in consiglio comunale a 32 mesi dallo scioglimento. La politica torna a guidare Foggia. Si presenta anche la nuova giunta. Il murales per la legalità realizzato alla Bovi. Oggi la presentazione alla cittadinanza. Conclusione dei laboratori condotti nella scuola foggiana. Ci spostiamo ora sulla prima pagina della Gazzetta del Salento. La cronaca in primo piano. La procura contro il GIP. Sono gruppi mafiosi. La retata fra Lecce e Brindisi contestato il mancato riconoscimento del reato di mafia. In taglio centrale comune di Brindisi parcheggi redditizi incassati 1,5 milioni nel periodo gennaio-novembre 2023. La Gazzetta di Taranto. Blitz, Taros, mafia e politica. Accuse confermate in appello l'operazione dei carabinieri. Porto agli arresti al comune di Leporano. In taglio centrale pesca di datte. Ricifun, disastro ambientale. Due ai domiciliari. San Marzano disposta per balizia balistica dopo l'omicidio. E poi ancora sulla Gazzetta di Taranto. Barca porta per chiudere il bacino Brim. Diamo uno sguardo alla prima pagina dell'edicola del Sud. Due regioni in rivolta contro le scorie nucleari. Questo è il titolo di apertura. L'ambiente nel Barese in Lucania. 15 aree individuate come possibili sedi del deposito nazionale e bufera. Uffici pubblici nei padiglioni del Bonomo. La deribera ok dal Consiglio Comunale più vicino il rilancio della struttura. La svolta per l'ospedale. Abbandonato da 15 anni. Ci avviamo alla conclusione dando uno sguardo anche ai titoli di natura economica. Siamo sulla pagina del Sole 24 Ore. Imo. Mutui affitti. Le novità per la casa. E poi ancora la COP28. Primo storico accordo per l'uscita dalle fonti fossili. Noi ci fermiamo qui. Vi ringraziamo per l'attenzione e a tutti una buona giornata.